maccheroni disco show sempre più esclusivo sempre più house club sabato 5 dicembre ospite al maccheroni guest db nina senicar il volto nuovo della pubblicità roberta guest dj direttamente da uomini e donne e i migliori house club d'italia dj marco carpentieri maccheroni via piave latina infoline 328 73 29 551 sabato doppia sala un unico grande divertimento il maccheroni